La delibera in realtà è estremamente semplice perché è l'attuazione di precedenti delibere che erano state già approvate in precedenti consigli comunali in particolare in settemassima 2015 era stato provato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune di Tessera Polognese per cui queste estremi della società sapi erano state dichiarate cedibili ed erano iniziati nel momento anche le procedure per poi arrivare alla vendita di questa partecipazione una delle azioni che il Comune di Tessera Polognese ritiene la società sapi è di 14.589 e in seguito appunto alla nostra delibera è venuto al Comune una offerta proposta di acquisto da parte della società stessa quindi sa qui erano le stesse che con la propria delibera aveva autorizzato considerazione a riacquisto di azioni proprie fino a una certa entità e quindi all'interno di questa delibera era stato anche indicato il prezzo massimo di riacquisto delle azioni che era stato poi effettuato anche sulla base della perizia che era stata effettuata sulla base dei valori di bilancio della società stessa per cui il prezzo che è stato fissato massimo per l'acquisto delle azioni era 4,27 euro per l'onestione ed è il prezzo che è stato offerto appunto alla Comune per l'accessione delle proprie ruote quindi 4,27,14.500 azioni risultano complessivamente 62.295,03 euro che sarà appunto la ruota che il Comune investerà dall'accessione delle azioni vi lascio la parola per l'onestione in attimo 8,24 no vedo che diciamo 4,27 per l'azione e un incasso di 62.000 euro è una cifra che forse non era neanche nelle televisioni diciamo quindi cioè volete che molti contatti non ci vuole vorrei che c'è un'attività ma bene a parte il chieste cioè il nostro paese e il paese non vorrei non ci vuole bene grazie solo per annunciare il nostro paese confermo effettivamente che non era il valore che pensavano di incassare diciamo bisogna essere onesti dire che la cosa se c'è anche solo presa favorevolmente nel senso che il valore luminale di questa azione era se non ricordo male 50 centesimi quindi noi in realtà abbiamo vissato come limite minimo il valore luminale e quindi ovviamente si troviamo invece di fronte a una un'attività molto superiore a un'attività che è stato superiore anche con una di usualenza molto alta rispetto appunto al valore di acquisto di risalto ovviamente era moltissimi anni fa se non ho mai o no in questo momento l'idea che da quanto tempo fossimo in processo di questa cosa però sicuramente era stata acquistata un valore luminale un valore molto vicino se non ci scatta di tanto di settacco settacco visto l'idea sì no perché ci sono ancora qui qui ci sono anche loro città una nostra stessa identica situazione che ne hanno avuto e siamo 12 due comuni della Romagna Trentina anche con un po' di invidia da parte di altri comuni ad avere una delle nostre partecipazioni dell'azione della Sato arrivate a se non si sa bene l'anno del canale è del link va bene parte le battute che procediamo con la votazione alla libera di dismissione della quota di società partecipate alla comune e vendita delle quote dalla società Sazia favorevoli per tutti potrà rinostenuto dopo votazione per immediata esegibilità favorevoli approvato potrà rinostenuto grazie